Il tema dei collegamenti ferroviari veloci per l'area interna è più attuale che mai a colpi di commissioni, emendamenti e polemica, dopo le parole del deputatoreatino Paolo Trancassini, che in commissione bilancio della Camera si è visto dichiarare inammissibile due suoi emendamenti, che ha chiesto in vano di far reinserire, inammissibili perché di altra materia, presentati nel decreto legge Recovery o PNRR. La sua proposta era per realizzare collegamenti ferroviari tra comuni delle regioni Abruzzo, Marche e Lazio colpiti dal sisma, concentrandosi sul collegamento Roma-Rieti, ma anche sulla tratta Roma-Rieti, Ascoli e L'Aquila. La pezzopane però era stata Cassandra, il deputato di Fratelli d'Italia, ha inteso anche polemizzare con lei. Per lei tali emendamenti sarebbero stati dichiarati inammissibili, come spiega, proprio perché presentati in quella sede e inammissibili non significa bocciati. La regione Abruzzo, Marsilio, che dimentica sempre l'Aquila, approva un suo strumento di programmazione delle infrastrutture in cui l'Aquila non c'è un buco nero, nemmeno un euro per il capoluogo di regione. Allora si solleva una rivolta anche nel centro-destra. E qual è l'idea geniale di Marsilio e di Biondi? Quella di fare e di chiedere al governo, non di mettere soldi già assegnati, un altro fondo. Ma per cosa? Per uno stanziamento di 40 milioni di euro per uno studio di fattibilità sulla linea ferroviaria, ovvero per un obiettivo per il quale già ci si è pensato e già è stato finanziato. Benissimo, cosa fa Marsilio? Chiede ai suoi parlamentari di Fratelli d'Italia di presentarlo. Il collega Fran Cassini di Fratelli d'Italia lo presenta. Ma dove lo presenta? Al decreto PNRR, cioè in un decreto dove quel tipo di emendamenti non c'entrano nulla, sono estrane per materia. Ma bisogna fare un passo indietro a luglio perché nella legge 196, che è già legge dello Stato e dopo l'approvazione dell'emendamento di Melilli del PD, sono previsti 40 milioni per la progettazione anche esecutiva di un primo tratto di ferrovia per migliorare il collegamento tra la capitale e le aree appenniniche e che prevede studi di fattibilità per migliorare il collegamento dei capoluoghi del cratere. Ora, l'emendamento proposto da Marsilio, come si sa, spinto dai sindaci dell'Aquila, Rieti e Ascoli, è alla legge di bilancio in discussione in Senato. Emendamento da 40 milioni di euro per realizzare uno studio di fattibilità per la velocizzazione del tracciato ferroviario tra Roma e Ascoli Piceno e il collegamento dell'Aquila e Rieti con Roma. Dunque, una partita ancora da giocare questa, mentre il tavolo di confronto l'Aquila collegamenti ferroviari veloci continua a seguire con attenzione la vicenda anche perché, a ben guardare, la legge 196 di luglio potrebbe essere utilizzata anche nel territorio aquilano e questo è un aspetto tutto da chiarire. Mi risulta che l'abbiano presentato nuovamente alla legge di bilancio un emendamento che prevede uno stanziamento di 40 milioni, ripeto, uno stanziamento già approvato dal Parlamento e vediamo magari, forse, che ce ne mettono altri 40 milioni.